Io sono qui questa mattina per predicarvi la parola del Signore o quantomeno per lasciarvi un pensiero della scrittura con la speranza che possa accendere in voi un desiderio di servizio. Quindi non faremo scuola biblica, non entrerò nel tema del leadership, c'è il libro se volete, ma partiamo dal testo che dà il titolo al libro, non so quanti ricordate la storia partendo dal testo del Vangelo di Luca al capitolo 5, era una mattina come tante altre, probabilmente chissà, forse era una domenica mattina come questa, ma era una domenica mattina che aveva alle spalle una notte fallimentare. Per tutta la notte Pietro, Andrea, Giovanni, Giacomo, questo gruppo di amici di pescatori si era affaticata, avevano sudato, avevano gettato per tutta la notte la rete a destra e a sinistra della barca, l'avevano tirata in barca ma senza portare a casa neanche un pesciolino. E dopo una notte del genere estenuante, deludente, mortificante per chi era pescatore di mestiere, dover dire alla moglie che aspettava a casa oggi non c'è niente da mangiare, oggi non c'è pesce da portare al mercato. E immaginate questi uomini con questo peso addosso che stanno lì, hanno portato le barche in secco, stanno rassettando le reti. Quando arriva Gesù, non era un estraneo per loro, Gesù era familiare sul lago di Gennesaret, Gesù era familiare nel villaggio di Capernaum, Gesù era uno di casa, a casa di Pietro, ricordate l'episodio della guarigione della socia? Ma quella mattina Gesù si avvicina al gruppo di amici seguito da una folla e chiede a Pietro di rimettere la sua barca sopra le acque. Per Pietro non c'è nulla di strano. Prende la barca, la rimette in acqua, prende la rete che stava rassettando e la rimette in barca e mentre lui si sposta dalla riva Gesù sale sulla sua barca e dalla barca di Pietro comincia a parlare alla folla e mentre Gesù parla alla folla anche Pietro ascolta ciò che Gesù insegna. Ci sono giornate che per noi sarebbero giornate da dimenticare, ci sono periodi della nostra vita in cui non riusciamo a portare a casa nessun successo, ci sono fasi della nostra esistenza che tutto quello che facciamo sembra non riuscire, come si suol dire tutte le ciambelle che impastiamo vengono tutte senza il buco, però sono buone lo stesso, si possono mangiare ugualmente, non saranno ciambelle, saranno frittelle, saranno biscotti e dopo che Pietro ha ascoltato Gesù parlare alla folla si sente dire non dall'amico, non dal conoscente ma dal maestro, dal rabbi che non era stato con Pietro quella notte, che non sapeva della delusione di Pietro, secondo Pietro, perché spesso noi ci rivolgiamo al Signore come se il Signore non ci conoscesse, gli portiamo i nostri problemi come se Gesù non li avesse mai conosciuti, Gesù non era stato con Pietro fisicamente quella notte ma Gesù conosceva il dramma di Pietro e degli altri, per cui qualunque sia la situazione che tu stai attraversando abbi fiducia a lui tutto è noto ed è per questo che altrove gli insegnerà che prima che tu apri la bocca il Padre Celeste sa ciò di cui tu hai bisogno e quella mattina dopo aver insegnato Gesù dice a Pietro a questo punto prima di ritornarci ne arriva prendi le reti e gettale sul lato destro viene sempre nei nostri momenti più difficili e complicati quel momento in cui la parola di Dio, lo Spirito Santo, la voce del Signore, Gesù Cristo il Figlio di Dio viene e ci sfida a fare qualcosa del quale noi ci sentiamo esperti, professionisti. Pietro getta le reti sul lato destro della barca e noi ricordiamo la reazione di chi ancora aveva tutta la fatica da smaltire Signore, Signore è tutta la notte che non solo a destra ma che ho calato la rete a sinistra davanti, di dietro e a destra e uno e due e tre e quattro Signore e prego oggi e prego domani digiuno oggi, digiuno domani, non manco mai in chiesa ma questa mia vita non cambia mai ma Pietro aveva ascoltato Gesù insegnare e dopo la reazione umana che ci sta ma sorelle fratelli nel Signore non tenetevi la rabbia dentro sfogatevi pure con il Signore però siate pronti a un ma quel ma che Pietro rivolge al Signore ma alla tua parola io lo farò se lo Spirito di Dio parla dentro di te, se un fuoco comincia ad ardere nelle tue ossa se una parola ti spinge nella tua mente a far qualcosa che carnalmente, che umanamente avevi messo da parte, se il Signore che ti sta parlando non esitare ma alla tua parola io obbedirò e che cosa accadde? La storia la conoscete tutti e quindi evito di raccontarvela ma dopo quel risultato sorprendente, dopo quella pesca definita miracolosa perché quando noi agiamo al comando della parola di Dio e succedono cose che non avevamo previste, che non avevamo messe in preventivo, diciamo è un miracolo, ma per Cristo, per Dio è ordinarietà, non è nulla di straordinario, diventa straordinario per noi quando ci apriamo a vedere nella nostra quotidianità l'intervento soprannaturale di Dio ma la parola è chiara, Dio è lo stesso continuate pure, ieri, oggi e in eterno, domani. È davanti a Pietro che stupisce, davanti a Pietro che riconosce la sua debolezza, davanti a Pietro che riconosce il fatto di aver dubitato, davanti a un Pietro che si umilia e dirà a Gesù ma c'è troppa differenza tra me e te, non siamo due gocce d'acqua così come a volte ci diciamo con qualcuno, non siamo fatti l'uno per l'altro, cioè io sono il tuo opposto, se tu sei il bianco io sono il nero, se tu sei l'alfa io sono l'omega, se tu sei a est io sono ad ovest, Signore allontanati da me. Quanto piace al Signore il fatto che noi riconosciamo che non siamo come Lui, che siamo troppo diversi da Lui ed ecco la parola, non temere, non farti preoccupazione inutile. non aver paura, fidati. Tutte le volte che venite alla presenza del Signore, se doveste ascoltare soltanto due parole da parte di Dio, io sono pronto ad offrire la mia vita in olocausto saranno queste. L'incontro con Dio parte sempre da questa esortazione, da questo invito, non temere. L'iddio della Bibbia non fa paura e Dio non si rivela per incuterci timore, non temere. Perché la mia prospettiva è che da ora in poi sarai pescatore di uomini. Cosa hai immaginato della tua vita? Cosa hai progettato della tua esistenza fino ad oggi? Probabilmente questo è un testo che può sfidare maggiormente i più giovani, quelli che progettano, quelli che sognano. Che i vostri sogni siano in sintonia con quello che Dio sta vedendo per la vostra vita, tu sarai pescatore di uomini. Pescatore, continuerai a faticare. Non gli ha detto sarai cacciatore, ha detto sarai pescatore. C'è una fatica da compiere, c'è del tempo da dedicare, c'è una barca da curare, delle reti da rassettare, delle reti da tenere in ordine, c'è da muoversi, da andare, da tornare. Ma tutto quello che farai per il Signore avrà un risultato diverso. Sarà un beneficio che tu porterai a persone come te. Perché quello che in dono tu hai ricevuto, in dono sei chiamato a donare, a portare ad altri. E questo è ciò che il Signore mette davanti agli occhi di Pietro. E voi che conoscete la scrittura e il Vangelo sicuramente meglio di me, ricorderete tutte le vicende che accompagneranno Pietro negli anni che seguirà il Signore, nel suo essere fianco a fianco. E tornando alla leadership, non è qualcosa che cala dal cielo. Il nostro servizio al Signore, la nostra vocazione non si impara con uno schiocco di dita, ma è fatto di alti e bassi, è fatto di cadute e di rialzamenti, di sconfitte e di vittorie. E quando Gesù stava per portare a compimento la sua missione, ci fu una delle notti che precedevano l'epilogo terreno, di Gesù, in cui a quell'uomo al quale Gesù aveva detto io ti farò, sarai, perché io ti farò pescatore di uomini, il Signore lo allerta, lo avvisa. E Luca sempre, al capitolo 22 al verso 31 ci dice, il Signore disse ancora, Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai ritornato conferma i tuoi fratelli. Il Signore allerta Pietro, dice guarda di qui a breve succederanno cose che vi metteranno in crisi, attraverserete, farete un'esperienza che non è possibile descrivervi adesso. Sarà come esser vagliati, sarà come il grano che viene sollevato al vento per essere pulito ancora dalla pula ed è il diavolo e l'avversario che verrà a fare quest'opera. Però non temere, io ho pregato per te. Anche se non mi vedrai, credi, io ti sostengo, la tua fede non verrà meno. Fratello, sorella, qualunque sia la difficoltà, qualunque sia l'esperienza che stai facendo oggi che ti sta mettendo in crisi, che ti sta facendo dubitare della vocazione che tu hai ricevuto, del fatto che hai scelto di seguire il Signore, di camminare nelle sue orme, di essere un pescatore di uomini, di donne, di essere un operatore del suo regno. Il Signore dice non temere, io prego per te. Egli è alla destra del Padre, ci ricorda lo scrittore agli ebrei ed intercede per noi. Quando a volte noi siamo in difficoltà andiamo dal pastore e gli diciamo pastore prega per me. Quando andiamo dal fratello, dalla sorella che ci sono più intimi sto avendo una certa difficoltà pregate per me. Io questa mattina ti dico che più del pastore, più del fratello, più della sorella prega per te Gesù. Non lo dimentichiamo questo aspetto. Gesù è alla destra del Padre che intercede per noi affinché la nostra fede non venga meno. Ma Pietro, il pescatore, disse signore, signore, fanni a me, non c'è bisogno che tu preghi per me. Io sono pronto ad andare con te tanto in prigione che alla morte. La spavalderia, quando cominciamo a servire il Signore, quando facciamo delle piccole cose, quando abbiamo l'onore di ministrare nel suo nome, ce ne andiamo subito di testa. Ma che dici? Ma non c'è bisogno che tu preghi per me, anzi, se tu hai bisogno sono io che prego per te. Infatti che cosa farà? Quando arriveranno le guardie ad arrestare Gesù? Tirerà fuori la spada e farà volare via all'orecchio al servo del sommo sacerdote. Pronto nelle parole e nei fatti. In questo testo c'è un altro ma. Il primo ma era quello di Pietro, ma egli disse, verso 34, Luca scrive, ma Gesù disse, Pietro io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu mi abbia negato tre volte di conoscermi. Fratelli, mettiamo in conto che non siamo dei supereroi, che non siamo invincibili, che non siamo infallibili e si rallegri nei nostri cuori nel considerare che Gesù lo sa e non ci condanna. Ma vuole che prendiamo consapevolezza dei nostri limiti, perché per servire gli altri dobbiamo sapere fin dove possiamo arrivare. Un buon leader, un buon servo, un buon ministro, un buon discepolo sa quando si deve fermare, sa quando è arrivato il momento di dire, Signore ho bisogno del tuo aiuto. Se andiamo oltre, come fece Pietro, conosceremo il fallimento. E noi sappiamo quel che accadde, le lacrime amare che Pietro dovette versare. teniamo a mente questo, che un'esperienza diventa preziosa quando ci informa o ci equipaggia per far fronte a nuove esperienze. Tutti siamo chiamati a servire il Signore, ma tutti dobbiamo imparare. Le esperienze di chi è avanti nel servizio ci aiuteranno, così come noi faremo le nostre esperienze e le daremo agli altri. Tenete presente quello che ho messo nell'angolino, facciamo fatica a imparare. Ma chi non impara non potrà trasferire ad altri. Vado velocemente alla conclusione, affinché questa mattinata non sia fallimentare per me. Voglio essere nei tempi. Ma mentre preparavo questa riflessione è salito nel mio cuore. Sapete che il cuore dei servitori è come uno scrigno, all'improvviso viene fuori qualcosa. Ed è venuta fuori la figura di Aronne. Di Aronne, alter ego di Mosè. Voi che sempre conoscete la Bibbia meglio di me, ricorderete che quando il Signore chiamò Mosè, Mosè fece un pochettino come Pietro, no? Se le mani avanti, non so parlare, non so capace. Così come facciamo tutti quanti noi. Quando nel nostro cuore il Signore comincia a mettere la vocazione, io sono certo che nessuno, mai, Signor meglio di me non lo trovi da nessuna parte. Ma poniamo dei limiti e il Signore diede a Mosè per sopperire sui limiti il fratello Aronne. Tu non sai parlare? Ma bene, tu sei la testa e lui è la bocca. Un po' come i due carabinieri. Uno parla e l'altro scrive. Questo vuol dire che l'uno aveva bisogno dell'altro. Ma ci sono situazioni nel racconto dell'Esodo, nel racconto che ci offre il Pentateuco, in cui i due sono separati. E in una circostanza, in una delle tante che Mosè sale sul monte per ricevere le tavole della legge per parlare faccia a faccia con Dio, ci fu una notte fallimentare per Aronne. Il leader Mosè delega, lascia il campo nelle mani di Aronne, sicuro di chi era Aronne. E mentre Mosè è sul monte, passano i giorni giù nell'accampamento. Questo lo potete leggere al capitolo 32 dell'Esodo, io ho preso soltanto parte del primo verso. Passando i giorni il popolo va da Aronne e gli dice, Aronne, Mosè non torna, facci un Dio che vada davanti a noi. Anche Aronne aveva fatto l'esperienza di ascoltare Dio parlare. Anche Aronne era stato al fianco di Mosè quando Dio si manifestava. Ma quel pomeriggio, quella sera, quella mattina, davanti a questa richiesta, senza Mosè, che cosa accade? Ricordate la storia? Aronne dice a quelli che vanno da lui, va bene, portatemi qui tutto il vostro oro, togliete gli orecchini dalle vostre mogli, facciamo adesso, la storia è geni, facciamo una raccolta, facciamo una rapina senza armi, consegnateci orologi, braccialetti, collanine, tante non ne avete bisogno, qui siete nella casa del Signore, ne facciamo tutta una raccolta, poi io sono Mosè, lui Aronne, decida lui che cosa farne. Aronne fa un vitello d'oro. Non ho il tempo per parlarvi del vitello d'oro, ma Aronne fa un dio, una divinità che questo popolo possa vedere. Oggi il rischio di molti leader è cadere nel fallimento di Aronne, costruire una religiosità, una spiritualità che si possa vedere, che si possa toccare con le mani, dimenticando che Dio è spirito. Dio è spirito. Ma purtroppo c'è una parte di popolo che vuole adorare qualcosa che si vede, che si tocchi. Anche se questo gli costerà un sacrificio economico, anche se questo gli costerà dell'oro, sono disposti a pagare pur di averlo. E il problema non è il popolo che richiede questo tipo di spiritualità. Il problema è che noi dobbiamo pregare di avere conduttori, leader, servitori che non siano deboli come Aronne, perché Aronne che stava lì a rappresentare Mosè doveva dire al popolo aspettiamo, Mosè scenderà se proprio non ce la facciamo invochiamo il Signore, adoriamo il Signore. Invece no, costruì un idolo. E quando Mosè scenderà dal monte e dirà ad Aronne ma che hai fatto? Aronne dirà me l'ho chiesto loro. Adamo, è stata lei. Io non ci azzecco niente. Quando si fanno i guai è sempre colpa di qualcun altro. Invece un leader, un servo, anche un discipolo deve imparare a riconoscere gli errori. Mosè dovrà pregare affinché Dio non faccia morire Aronne. Questo lo leggete nel Deuteronomio e lui ha dovuto pregare per Aronne perché Dio lo voleva distruggere. Io spero che questa riflessione appizzichi e ammozzichi, perché ci sarebbero volute ore per scendere nello specifico, ma possa lo Spirito accendere questo desiderio in voi di andare a leggere, ad approfondire. Abbiamo bisogno di uomini, di servitori, di pescatori che siano capaci di trasferire la fiamma che è unzione, che è santità, che è devozione, che è sotto missione, che facciano nascere in altri credenti il desiderio di servire il Signore. Questa immagine non l'ho inventata io, anzi l'ho presa in prestito e l'ho utilizzata anche nel libro. Servire il Signore è come essere una candela per accendere la vita degli altri. Uno, ti devi consumare e due, per passare la fiamma. Avete mai acceso una candela con un'altra candela? Cosa dovete fare? Abbassarle, portare quella fiamma? Servire il Signore è questo, è abbassarsi, chinarsi sugli altri affinché quella fiammella che è dentro di noi possa accendere qualcun altro. Io vi lascio oggi con questa certezza. Vedo qui tante fiammelle. Al di là dell'opinione che hai di te stesso se sei qui questa mattina è perché un giorno come a Pietro il Signore ti ha detto seguimi ed io ti farò pescatori di uomini. E dentro di te c'è una fiammella, non importa quanto sia alta o bassa, ma questa fiammella è sufficiente ad accendere la vita di qualcun altro. E più accendi gli altri, più la tua vita.